A tutti un caro saluto di benvenuta a questa edizione del telegiornale, l'apriamo parlando di politica, domani arriverà in giunta la moratoria sugli impianti di energia rinnovabile. Il disegno di legge proposto impone una pausa nella realizzazione di nuovi impianti fino all'adeguamento del piano paesaggistico regionale e all'approvazione della legge sulle aree idonee. Questo comporterà il divieto di costruire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che possano danneggiare il paesaggio, il territorio e il consumo di suolo. La Presidente Alessandra Todde ha ribadito ieri in consiglio che l'obiettivo di questa misura è limitare la speculazione senza ostacolare la transizione ecologica che rimane un pilastro fondamentale del suo programma e della sua visione politica. Le poche piogge e le vecchie reti idriche fanno scattare l'allarme siccità nell'isola. Secondo i dati emersi dalla riunione del Consorzio di Bonifica a Sardegna di questa mattina, metà dell'acqua invasata viene dispersa. Sentiamo Daniele Chirico di UTG. Allarme siccità in Sardegna. Quest'anno, rispetto al 2023, metà delle acque che viene invasata si perde. L'allarme arriva dal Consorzio di Bonifica a Sardegna che stamattina ha presentato i dati che riguardano la carenza idrica nell'isola. La dotazione della risorsa è circa la metà rispetto all'anno precedente. Stando ai dati emersi di questa mattina, durante la riunione, l'acqua del bacino del Flumentosa è calata di circa il 45%. Da 500, infatti, si è passati a 320 milioni di metri cubi. L'appello del Presidente del Consorzio e Fisioperra, rivolto ai coltivatori, è quello di usare l'acqua con attenzione, viste le quantità a disposizione sempre più ridotte. Partiamo col 70% di assegnazione di risorsa, quindi con una contrazione delle superfici del 30% circa. Nel comprensorio dei Cigerri, invece, siamo partiti col 50% di assegnazione rispetto alle annate precedenti. Anche qui c'è un problema di assegnazione di risorsa, ma c'è anche l'impianto di sollevamento di Utanord che di recente stiamo mettendo in funzione e collaudando, per cui siamo anche in attesa di vedere un po' la reazione di questo nuovo impianto. Secondo il Presidente Perra, sarebbero, oltre le poche piogge, proprio le ormai obsolette reti idriche, la causa principale dell'emergenza siccità nell'isola. Da un paio d'anni a questa parte non sta più piovendo come negli anni scorsi, quindi c'è una carenza di risorsa. Chiaro che anche le perdite rappresentano un vulnus del sistema di distribuzione dell'acqua, metà dell'acqua che viene invasata si perde, per cui è importante anche intervenire sulla manutenzione delle reti. Non solo Quartu, ma anche in altre zone della Sardegna. Come spiega Perra, sono già in atto molti lavori di manutenzione alle reti idriche per cercare di risolvere il problema della dispersione dell'acqua. Ci sono alcuni interventi puntuali nei territori. Nel caso di Quartu Sant'Ella c'è un intervento importante di manutenzione straordinaria su una condotta che perdeva da una ventina d'anni quasi. Così come lì anche da altre parti stiamo cercando di intervenire con le manutenzioni straordinarie per garantire anche noi il nostro risparmio idrico. Ci sono le reti vetuste, quindi l'appello che facciamo alla Regione è anche quello di rifinanziare, come è stato finanziato l'anno scorso, il piano di bonifica e miglioramento fondiario e quindi consentire la sostituzione di reti obsolete e quindi anche da parte nostra garantire il risparmio idrico. Ed ora parliamo di un cambiamento importante della Cisle Sardegna. Il segretario nazionale del sindacato Luigi Sbarra sarà in Sardegna il prossimo 3 maggio, giorno che porterà all'elezione del nuovo segretario regionale che prenderà il posto di Gavino Carta e stromesso dalla guida del sindacato prima della fine naturale del mandato. Sentiamo Stefania Costa. Il comunicato è stringato, poche righe per annunciare l'arrivo in Sardegna del leader nazionale della Cisle Luigi Sbarra. L'appuntamento è per il 3 maggio a Cagliari quando verrà eletto il nuovo segretario regionale del sindacato che prenderà il posto di Gavino Carta. Un passaggio di testimone che avviene prima della scadenza del mandato dell'attuale segretario, confermato alla guida del sindacato nell'isola nel marzo del 2022. L'elezione del nuovo segretario generale regionale lascia dunque presagire che non si tratti di un normale passaggio di consegne ma di una sostituzione. E mentre i cellulari dei protagonisti squillano a vuoto a parlare sono le indiscrezioni di corridoio e che indicherebbero una frattura evidente tra i due segretari Sbarra e Carta, fino alla separazione tra il sindacato e colui che è stato al timone negli ultimi anni. Una separazione non consensuale tra per ancora dalle retrovie e che potrebbe portare assieme al nuovo progetto di organizzazione della Cisle Sardegna anche dei malumori. L'antitrust ha avviato un'indagine approfondita sugli algoritmi di prezzo usati dalle compagnie aeree per i biglietti delle rotte nazionali verso la Sicilia e la Sardegna come comunicato dal Codacons. Un'indagine iniziata il 14 novembre 2023 dopo un esposto dalla stessa associazione dei consumatori e che mira a capire i parametri e le motivazioni dietro le scelte di acquisto dei viaggiatori. L'analisi è stata affidata alla società Doxa che doveva presentare un rapporto conclusivo entro il 15 maggio 2024. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, esprime soddisfazione per l'approfondimento dell'indagine sperando i risultati concreti prima dell'estate per mitigare l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei durante il periodo vacanziero. E nell'isola CLE cresce la ricerca di figure professionali green per le imprese artigiani necessari oltre 8 mila addetti specializzati in transizione verde. Sentiamo. In Sardegna la domanda di personale con competenze green è in aumento tra le imprese artigiane come evidenziato dai dati di Confartigianato. Oltre 8 mila posti di lavoro sono previsti nel settore rappresentando il 50% delle assunzioni totali e posizionando l'isola al quinto posto in Italia per assunzioni green con un totale nazionale di circa 242 mila lavoratori. Tra il 2018 e il 2022 14.520 imprese sarde hanno realizzato investimenti ecologici focalizzati principalmente nei settori manifatturieri energivori e nei servizi legati al commercio e al turismo. Per Confartigianato la carenza di lavoratori qualificati rappresenta un ostacolo per la transizione e richiede la necessità di politiche e investimenti in competenze digitali ambientali. Le imprese artigiane sarde sono pronte a cogliere la sfida della transizione green. Già ora in termini di processi produttivi sono quelle che hanno un minore impatto ambientale in termini di emissioni e sono certe che l'efficientamento energetico e la riduzione dell'impatto ambientale sia un must per il prossimo futuro. Si scontrano però con la realtà. Al momento sono circa 8 mila gli addetti che le imprese sarde cercano con alta specializzazione in tematiche green e di transizione ecologica appunto, ma hanno difficoltà serie a reperire del mercato del lavoro. Per questo occorrono piani formativi e interventi di politiche di sostegno a piani formativi che riducano il mismatch tra quella che è la formazione appunto e la realtà aziendale affinché appunto i giovani possano essere accompagnati già al momento della formazione ad avere uno sbocco concreto e reale con quelle che sono le esigenze dell'economia sarda. Proseguiamo con la cronaca. Due feriti di cui uno grave è traffico in tilt. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 554 all'altezza di Selargius. Una donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bruzzo di Cagliari. Si sono scontrati un camion per la raccolta dei rifiuti e un'auto condotta dalla ferita. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Torrente. A causa dell'impatto il mezzo che trasportava rifiuti si è ribaltato su un lato. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco mentre si stanno occupando dei rilievi i carabinieri. Le condizioni della donna sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. A Sassari nessun accordo fra la costituente per Sassari e il campo largo in vista delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno. Il candidato sindaco Mariano Brianda ha annunciato ufficialmente che il suo movimento correrà da solo il servizio. La costituente per Sassari si presenterà da sola alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Il movimento che propone l'ex magistrato Mariano Brianda come primo cittadino ha rotto gli indugi dopo le voci dei giorni scorsi che lo vedevano pronto a entrare nel campo largo comunicando alla stampa in un incontro convocato nella sua sede di Viale Umberto la decisione di correre per conto suo. La costituente per Sassari scende in campo da sola per rappresentare un'area di un voto libero rappresentato da quegli elettori che non si ritrovano più nelle vecchie logiche del centro-sinistra, nelle vecchie logiche della politica ed è un elettorato maggioritario e da questo punto di vista noi riteniamo che il voto a noi sia un voto utile oltre che libero. I tentativi di portare la costituente nel campo largo in realtà ci sono stati e anche diversi ma nessuna delle proposte del movimento è stata accettata. Ci sono state lunghissime interlocuzioni con il campo largo, abbiamo offerto tutto quello che era possibile offrire, per esempio il fatto che non si dovesse più contare sulla mia presenza, abbiamo chiesto dall'altra parte soltanto alcuni significativi segni di cambiamento che però non sono stati accolti, per esempio una presa di distanza dalla vecchia politica, un rilancio di una nuova politica in termini concreti, in termini reali, non soltanto di tipo generazionale che per carità va bene così, però noi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro e di apertura da questo punto di vista era soltanto venite con noi perché ci interessano i vostri voti.